Abbiamo firmato un importante accordo, Team 2023, dove a fronte di 5200 esodi, uscite, ci saranno 2600 assunzioni, quindi è giunto il momento di candidarsi. È abbastanza semplice. Nel sito unicredit.it, nella prima pagina, nell'angolo basso destro, chi siamo? Ultimo rigo, carriera. Lì vi è la possibilità di candidarsi in ben quattro settori. Generalmente si chiede almeno la laurea triennale in materie economiche, giuridiche, scienze politiche o della comunicazione. Lavoro in filiale è la prima possibilità, quella che dà magari maggiori opportunità. I requisiti richiesti sono la risoluzione dei problemi, la disponibilità al dialogo e all'ascolto, ma anche la disponibilità alla mobilità, perché dobbiamo andare a ricoprire sedi un po' disagiate, isole minori e paesi magari che si trovano in montagna, nelle province più lontane, dove non è facile, tra l'altro, essere pendolari. Poi abbiamo la Voral Direct. La Voral Direct ha un vantaggio. Il Direct, che sarebbe la banca telefonica, si trova nelle più grosse città, quindi Palermo, Napoli, Roma, Milano, Torino, quindi meno disagiate come luogo di lavoro. Anche qui bisogna essere molto predisposti all'ascolto, alle problematiche della clientela, e avere una marcia e più per quanto riguarda i canali digitali. E si lavorerà fondamentalmente cercando di risolvere i problemi legati alle carte, legate a dubbi, informazioni che può chiedere il cliente, e si eseguiranno anche ordini di borsa. Poi abbiamo il Wealth Management e Private Banking. Qui il requisito è almeno la laurea magistrale e magari qualche master, perché qui la clientela è più sofisticata ed esigente, quindi bisogna sempre avere l'attitudine all'ascolto, al dialogo, ma anche una certa propensione nella gestione del rischio. E infine abbiamo il Corporate Graduate Program Next Generation, di recente costituzione questo percorso professionale. Infatti le assunzioni avverranno nel novembre del 2022 e il percorso professionale avrà una durata di 12 mesi e si conclude nel novembre del 2023. È proprio un percorso all'interno del gruppo che tra l'altro darà una formazione certificata perché si lavorerà in varie aree di business e si riuscirà a costruire un profilo professionale, si diventerà un vero e proprio professionista del settore in maniera tale da poter sviluppare al meglio la relazione con le aziende italiane. Anche qui è richiesta una certa propensione alla mobilità la conoscenza delle lingue straniere perché è sicuramente un trampolino di lancio per una carriera anche a livello internazionale.